Ehi tu! About You è finalmente sbarcato anche in Italia. Moda e shopping di qualità racchiusi in un'esperienza che è una vera novità. Siamo il tuo fashion store personale, con capi pensati apposta per il tuo stile. Basta cercare all'infinito, basta perdere tempo. La moda è diventata easy e divertente, con tutti i brand che ami tu. Con About You la scelta aspetta solo a te. Provalo subito su aboutyou.it. Ora con uno sconto di benvenuto del 25% per un periodo limitato. Grazie a tutti.